Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Adesso basta! Strimmo io! Siummo! Quanto l'hai pagato? 1870 euro, mannaggia la carta dell'el Io ho la sua faccia come sfondo, siamo uguali maestro Ma io mi voglio bene da solo ragazzi, le pussy flower, mi fanno paura Troppo vanitoso, oh yes baby Chi vince il mondiale? Argentina, 4 a 0 Maestro tra due settimane possiamo aprire la caccia alle 2005 Sium! Quella che è suonata a dicembre, ma quella che è suonata prima, no? Non è vanitoso maestro, è solo bello, grazie Solo ti chiedo, ma è a rate? No, l'ho comprato tata Speriamo che vince l'Argentina Tutta l'Italia tifa per Maradona Bello, bello Ma lei non era contro l'Apple? Mmm... Devo dirti che mi devo... Ehm... Rigredere Vi devono rigredere Ehm... No, l'ho pagato con... Amazon ragazzi, l'ho preso su Amazon all'iPhone Su Amazon e basta Madonna Sì, sì, l'accompagno, venga, venga, andiamo Vieni con me, vieni con me L'accompagno alla garage, venga Vieni, vieni, vieni verso il garage C'è il Goliardico, vada piano che questa... Madonna mia! Oddio, oddio, oddio Oddio, oddio Oddio, oddio Uè, Federico Ronchetta, grazie mille per ride Grazie mille Grazie, bello Oddio, oddio Oddio, oddio Oddio, oddio Oddio, oddio Uè, non è male Grazie, sì, sono un maiale, sono uno sporco bastardo e sono un porco Sono un porco, sì Sì Sì, ho capito, ok Mi fai combattere, che devo fa' Mannaggia... No, non siete voi Voglio capire una cosa, ragazzi Allora, allora, quante segnalazioni avete mandato a Twitch? Quante segnalazioni... No, facciamo un discorso serio, perché ho portesia Perché vuole... Ecco qua, perché hai le pubblicità? Stiamo spiegando questa cosa Perché tu hai le pubblicità? Ok C'è qualche santo in chat che mi può aiutare? Boh Ed it is Che vedevo dito? keine Mi 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 madonna no va giù va giù che cazzo combinato che cazzo non ho bestemmiato ragazzi ma ora sapete che mi sono svegliato 20 minuti fa 30 più 20 30 20 fa un'ora e venti quindi un'ora e venti fa io mi sono svegliato guarda che oggi oggi vuole attaccare la live tipo alle 5 alle 4 prega per noi Maria prega per noi 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 Sì, sì, sì Sì, sì Sì, sì Sì, sì Sì, sì, se ciappa giuda ci ciava due cazzotte mug Faccio live, ok E non so Non lo so perché escono queste pubblicità Adesso Twitch mi devi spiegare Perché mi escono le pubblicità Porca puttana Eh, come possiamo risolvere, cazzo? No Come facciamo? Come risolviamo, figa? Dobbiamo... Chiudo, scusa Era l'ognomo cogliardico Ma come abbiamo fatto 370 sub 377 sub Ma cosa dici? Ma cosa dici? Quelli che strimano sempre siamo voi Cazzo Ma cosa dici? 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 Ma cosa dici?